Prosegue il percorso per evitare la chiusura dei tribunali minori. Ieri c'è stato un incontro ad Avezzano con i rappresentanti forenzi e parlamentari abruzzesi al quale è partecipato il governatore Marco Marsilio. Il presidente ha evidenziato il fatto che il governo è contrario alla chiusura ma ha anche ribadito che in questi anni si è relazionato con tre ministri diversi di quattro governi che non hanno voluto modificare la geografia giudiziaria dichiarandosi contrari alla repertura di questi tribunali minori. La regione è così attivata una proposta di iniziativa legislativa e oggi c'è un governo con il ministro Nordio che ha più volte criticato la riforma sottolineando nel fallimento e ribadendo la sua contrarietà alla chiusura dei presidi giudiziari minori, ha ribadito Marsilio. Essenziale in questo momento la sinergia tra istituzioni per potenziare la soluzione legislativa. Oltre alla necessità di mantenere in vita e fuori abruzzesi è stato sottolineato il bisogno di riaprire le piante organiche dei quattro presidi di giustizia che sono sguarniti di personale sufficiente per farli funzionare in maniera adeguata. Ad oggi esiste una proposta di legge del Consiglio regionale abruzzese che sta seguendo il suo iter in Commissione Giustizia come esiste un test unificato che è stato di esempio oppure per altre regioni. La novità è che sostanzialmente il governo nazionale è favorevole a questo indirizzo e percorso per cui il percorso virtuoso appunto intrapreso sin qui deve continuare per portare a casa il risultato. Oggi abbiamo un governo con un ministro Nordio che ha già fatto due o tre volte in Parlamento quindi in una sede solenne interventi chiari rispetto al ridisegno della geografia giudiziaria e quindi anche al giudizio negativo se non di un vero e proprio fallimento di quel tipo di riforma altrettanto hanno fatto tutti i suoi sottosegretari che in alcuni momenti sembrava quasi facessero a gara per chi sposasse con più decisione questa causa. C'è la proposta di legge della regione che è stata mandata in commissione la commissione ha già unificato, ha già fatto il testo unificato tra questa proposta e quella di altre due regioni che sono seguite a quella dell'Abruzzo siamo stati di fatto i capifila e di altre di iniziativa parlamentare quindi oggi c'è un testo di legge all'esame della commissione competente un ministro di un governo che esprime sostanzialmente un parere favorevole a questo indirizzo non mi sembra poco